Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento del mese insieme ad IG. Credo mi sentiate, perfetto, perfetto, vedo che mi sentite tutti, ottimo. Allora, vedete anche il mio monitor, quindi tutto è ok, molto bene. Bene, allora oggi facciamo un webinar dedicato principalmente all'operatività con i certificati Turbo 24, quindi almeno come opero io con i certificati Turbo 24, che sono uno strumento che ormai da un annetto, forse un po' più di un anno, IG ci permette di tradare e devo dire che io stesso negli ultimi mesi soprattutto ho iniziato a utilizzare in maniera abbastanza costante, direi molto costante, no? Chi è qui con me e segue il Platinum sa che infatti li sto tradando veramente, praticamente sto tradando i Turbo, mi trovo molto bene, quindi ho deciso questa sera di fare con voi appunto un approfondimento relativo più che altro a, sì, va bene la Price Action, bene o male la conosciamo, nel senso che sicuramente con me avete già fatto un sacco di webinar e un sacco di seminari riguardanti la Price Action, oggi volevo andare un po' più nell'osservare per esempio un tipo di operazione, ecco il tipo che knockout usare, che tipo di gestione possibile si può fare attraverso i certificati, che sono sicuramente molto molto interessanti, sono aperti tra l'altro 24 ore su 24, e quindi diciamo che sono simili a un CFD ma per molte cose hanno anche degli aspetti migliori, quindi li sto utilizzando in maniera ormai assolutamente molto frequente. Saluto tutti quanti gli ospiti di questa sera, i vari Carlo, Claudio, Corrado, Giuseppe eccetera eccetera, che alcuni conosco, perché sono ovviamente dei Platino, sempre con noi, soprattutto Carlo, e andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere un po' di cose, va bene? Qualsiasi domanda, qualsiasi idea, mi raccomando, scrivetela qui nella chat di GoToWebinar, perché siamo qui apposta, quindi non ci sono assolutamente problemi, oppure non preoccupatevi di scrivere anche se sono cose molto semplici, perché insomma ognuno poi ha un grado di preparazione. A questo punto direi di iniziare, vedo che Vincenzo chiede se il webinar sarà pubblicato, sì, verrà pubblicato giovedì nel mio canale YouTube, Arduino Schenato Yardforex, quindi questi webinar di mensili che faccio con IG vengono pubblicati ogni mese, il giovedì successivo sono di martedì, quindi il giovedì vengono pubblicati sul canale YouTube mio, quindi se vuoi rivedere il webinar sai che lo puoi rivedere sul canale, va bene? Allora parliamo di certificati Turbo 24, intanto, visto che non siamo moltissimi questa sera, vi chiedo se sapete, se già li tradate, se li conoscete, se avete già un pochino di riscontri, insomma a livello operativo riguardo questo strumento, intanto, insomma, come potete, probabilmente come avete già state iniziando a vedere o avete già visto, sapete che sono sempre uno strumento a leva che ci permette di andare a lavorare sui principali cambi Forex, che è un po' quello che faccio maggiormente, però vedete S&P 500, oro, quindi abbiamo indici, materie prime, è assolutamente, diciamo, è un tipo di strumento che assolutamente va sugli asset finanziari che tendenzialmente trado di più. E una delle cose molto interessanti che ha questo tipo di strumento, e che a me piace tradarci è che proprio ha praticamente un, ha dei livelli, ha praticamente delle zone, dei livelli di knockout, quindi dei punti dove si può posizionare il massimo investimento di un'operazione e una volta che si decide l'investimento, no? Si prende un X percentuale, ma arriva il conto, comunque un X in euro dal proprio conto di trading, si definisce quindi un massimo rischio e si va a investire su quello con nessuna possibilità di andare a perdere più di quello che si ha nel conto o di avere la possibilità, diciamo, il problema che magari il classico stop che viene inserito possa essere saltato perché non è possibile, cioè io investo 1000, facciamo esempio su una mia posizione, e 1000 è, ok? Vorrei con voi andare a vedere una posizione, tra l'altro, che ho aperto proprio quest'oggi e che riguarda la sterlina Yen, la sterlina Yen, nella quale ho comprato alcuni turbo e quindi volevo partire da qui per farvi un esempio pratico, questo è un conto reale che ho praticamente fatto e così vi spiego un po' l'operazione, un po' il come la si fa su questi certificati turbo e come cercherò, diciamo, di gestirla anche in ottica di proprio gestione di trading, cioè in ottica di magari andare o a incrementare una posizione o alleggerire un certo tipo di trade, va bene? Quindi, in questo caso specifico, sterlina Yen, voi sapete, e se non sapete ve lo dico io, è un cross valutario che va a prendere due cambi principali, quindi sterlina Yen è creata da il prezzo di dollaro Yen, eccolo qui, e il prezzo di sterlina Yen, ok? Quindi, nel momento in cui io so come funziona, come si muovono i cambi dollaro Yen e sterlina dollaro e vedo un certo tipo di dinamica, so che queste due, moltiplicate tra di loro, creano i movimenti e quindi il prezzo, il valore del cross sterlina Yen. Tra l'altro, a luglio faremo la parte 2 degli webinar dedicati alle correlazioni nel Forex, proprio qui con i G, quindi vi consiglio già di prenotarvi per la prossima settimana, cioè, scusate, per il prossimo mese, quando faremo questo webinar, dove faremo proprio degli esempi pratici di come andare a lavorare con questo tipo di supporto operativo che solo il Forex ha, solo le valute, i cambi di valutante. Allora, sterlina Yen, quindi facciamo un breve ripasso di quello che è il prezzo, appunto, come si forma, abbiamo detto, il prezzo di sterlina Yen, che è vero che noi praticamente, io adesso vi ho detto che è così, però voi dite sì, ma in che senso è il moltiplicatore? È proprio la moltiplicazione tra il prezzo di 1, quindi i 155 e il prezzo di dollaro Yen, ok? Quindi molto in modo molto molto semplice, è proprio la moltiplicazione dei due, e la moltiplicazione dei due, quindi il 110 e adesso quota 110 e 15 moltiplicato a 140 e 71, scusate, 1,40 e 71 perché è la sterlina dollaro, andrà a creare il prezzo di 155 di sterlina Yen, ok? Quindi tutto passa attraverso queste. Quindi se noi conosciamo bene come si sta muovendo la sterlina dollaro e come si sta muovendo il dollaro Yen, riusciremo a capire che la sterlina Yen avrà un certo tipo di dinamica. Per esempio, in questo caso io ho, quando ho fatto questa operazione, era già da ieri sera in realtà che ci guardavo su, però poi questa mattina avevo esaminato un po' la cosa e nel pomeriggio poi ho valutato che ci poteva essere il giusto momento per entrare. Vedete che se andiamo a prendere l'ultima parte del grafico, notiamo un mercato che è in salita, che sta facendo tra l'altro dei grandi movimenti di salita, quindi il dollaro americano più forte dello Yen, in realtà è molto più forte già da tempo, ma aveva avuto una forte discesa anche nel mese di aprile, diciamo, aprile, proprio aprile, sì, e poi c'è stata una nuova salita. Nell'ultimo periodo, eccolo qui, ha fatto una base su questo supporto a 109,30 ed è ripartito la copia dell'Orient, quindi sta riprendendo forza, come potete notare. E la sterlina dollaro, anche lei guardiamola un po' nel medio periodo, vedete che abbiamo avuto anche qui un ribasso tra febbraio e marzo, poi è ripartita su e nell'ultimo periodo c'è stata una lateralità che arriva però da una tendenza, lo notiamo bene sul grafico, a barre settimanali, una tendenza molto bullish che si è fermata per un breve periodo, qui per qualche settimana, e adesso ha un po' rotto a ribasso, però come potete notare, insomma, c'è una tendenza molto ampia, c'è un supporto qui, ci sono dei supporti qui e c'è un supporto qui, quindi diciamo che in questa zona quello che io mi aspetterei dalla sterlina dollaro è comunque una tenuta almeno dei 140, 139, scusate, 1,40, 1,39,80, quindi di questa zona. Quindi diciamo che cosa abbiamo? Abbiamo due cambi che formano quel cross lì, che sono entrambi, diciamo, in un bel mood, in un momentum più rialzista. La sterlina è un po' più debole, il dollaro yen è un po' più forte, ma in generale, anche se ci dovesse essere un po' più di debolezza nel cambio sterlina dollaro abbiamo dei buoni supporti tecnici molto molto importanti in un trend molto molto long degli ultimi mesi, che ci permette, insomma, di pensare che la sterlina dollaro al momento possa comunque tenere questi livelli, visto che abbiamo un trend assolutamente chiaro. E il dollaro yen, appunto, anche lui è in una tendenza longa, vi faccio vedere anche il settimanale, per farvi capire, il settimanale arriva da qui, ha avuto questo ritracciamento e adesso sta continuando la sua fase di salita. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo due cambi, due cambi nativi col dollaro americano, dollaro yen e sterlina dollaro, tra l'altro tra i primi della lista nella torta di volumi scambiati nel mercato del forex, quindi sapete che euro dollaro, dollaro yen e sterlina dollaro sono i tre cambi più scambiati. Io, infatti, euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro yen e australia dollaro, questi quattro qui sono i miei, preferi i miei quattro principali, poi c'è dollaro canada e poi ci sono i cross maggiori che, tra l'altro, con i turbo 24 li trovate proprio euro yen, sterlina yen, euro sterlina. Questi sono dei cross, ovviamente, perché non hanno il dollaro americano come gli altri. Quindi, in questo caso specifico, insomma, quello che si è venuto a... cioè, quello che io ho visto è questa forza di dollaro yen e questa comunque forza o possibile tenuta di supporti più bassi di sterlina dollaro e quindi sono andato a vedere negli ultimi periodi sia euro yen, perché è molto simile la situazione, sia la sterlina yen e entrambi, insomma, erano molto interessanti. Devo dire che però la sterlina yen, che seppur è arrivata sicuramente sul livello molto importante, questo qui è un grafico settimanale, notiamo, vedete, questo punto dove lui scende, pam pam pam, questo punto che dove frena un pochino, però in un momentum così forte ha già fatto un mini ritracciamento e sembra propenso a rompere questo livello ad andare a continuare la sua fase rialzista che da tempo ormai lo vede in un mood assolutamente long, no? Benissimo, quindi che cosa ho fatto? Ho valutato bene la situazione sia nella price action e poi prendo anche l'ultimo, il grafico daily ovviamente che è stato quello che poi mi ha fatto creare l'entrata, quindi noto che questa sterlina yen aveva negli ultimi periodi, aveva creato anche uno dei, alcuni dei miei, diciamo, un mio trigger nella struttura che mi piace, quindi una tendenza assolutamente bullish, eccola qui, vedete, una tendenza assolutamente molto molto long, vediamo anche i movimenti che lui fa, no? Cerca sempre di, una volta che fa dei movimenti, di fare dei lievi ritracciamenti, delle basi, se avete seguito anche con me proprio alcuni degli webinar, sempre con IG che sono andati sul canale dedicato per esempio ai pavimenti della price action, le aree, le false rotture, ecco che nel momento in cui, guardate qui, quando lui fa questo, no? Crea delle false rotture e poi recupera, poi crea questi pavimenti, no? Fa delle tail bar e poi continua, no? Ecco che in effetti questo mercato è assolutamente interessante perché ha creato ormai da tempo, da novembre del 2020, guardate qua, una tendenza rialzista che a livello tecnico è da manuale, no? Guardate qui prendendo questi minimi, in realtà si poteva già prendere anche da qui, però da qui è proprio perfetta l'area dinamica, si nota come il mercato della Serena Yen, quindi il cambio Serena Yen non riesce ad avere una debolezza così forte da violare questa linea di tendenza che è assolutamente interessante e si nota come questo mercato insomma sia ancora in una fase assolutamente, totalmente bullish. Carlo mi dice di muovere piano il mouse perché ogni tanto perdiamo la voce, ok Carlo vai tranquillo che segue il tuo consiglio. Quindi in questo caso specifico, che dire? Andiamo a vedere un po' che cosa è successo e così vi faccio anche una domanda. Avete visto che con IG nel marzo, primi di marzo, abbiamo fatto uscire un bel libro dedicato al trading, dedicato a tecniche di trading, a approcci al trading che abbiamo scritto in tre trader, quindi io, Gabriele Bellelli e Bruno Moltrasio, Gabriele ha parlato più dei certificati, degli strumenti con i quali operare e io e Bruno abbiamo parlato più di tecniche, Bruno ha messo le sue tecniche, io ho scritto diciamo in maniera molto riassuntiva il mio approccio al trading e ho parlato del last kiss, quindi vi chiedo se avete letto il libro tecniche di trading professionale e così vediamo un po', visto che siamo qui, lo trovate comunque scaricandolo direttamente dalla home page di IG se notate, no? Abbiamo praticamente il libro proprio in home page, se vado a prendere qui, guardate qua nella home page di IG, lo trovate proprio qui, da chiedere professionale scopri di più e qui lo trovate. Chi l'ha letto? Qualcuno di voi l'ha letto? Vediamo un po' se mi rispondete, o comunque la mia parte almeno. Beh Carlo, grandissimo che l'ha letto, ma Carlo è con noi in trading room ogni giorno nel Platinum, quindi voglio dire, tra un po' Carlo mi insegni tu a me, che cos'è un last kiss? No Carlo? Insomma si fa per scherzare ovviamente, però qualcun altro ha letto il libro o ancora no? Vediamo un po' impreparato dice Claudio, no? Ecco allora vi consiglio di andare a leggerlo, perché abbiamo fatto veramente un bel ebook, è veramente per tutti i livelli secondo me di trading, sia per chi magari già naviga da tempo nel mercato, sicuramente comunque è una lettura bella, interessante da fare e per chi all'inizio è assolutamente anche possibile capire, ci sono termini semplici e anche, come dire, ci fa notare un po' i mercati sui quali magari operare, che tipo di approccio avere, il money management, c'è un po' di infarinatura anche di questi temi, quindi è sicuramente un libro che vi consiglio, è gratuito ragazzi, quindi non è che, insomma, non costa nulla, basta scaricarlo, è un ebook e quindi si può tranquillamente, poi adesso abbiamo anche l'estate e con l'estate magari qualcuno si prende qualche giorno e magari va al mare, al lago, in collina, in montagna, non lo so, però magari ci si può portare qualcosa da leggere, ecco non è una lettura pesante, questo voglio dire, non è una lettura troppo tecnica, troppo pesante, che magari può essere difficile in un ambiente vacanziero, quindi ve lo consiglio, visto che il periodo può essere quello giusto. Claudio dice che ha avuto parecchio lavoro, il trading non è il mio lavoro, non sono trading professionista, vabbè certo ci sta, però Claudio se ti piace, se hai passione, è un bel libro, ve lo consiglio per investire in modo consapevole sul mercato, ve lo consiglio ovviamente da leggere tutto, poi la mia parte più che altro, oggi mi piaceva svilupparla perché se qualcuno aveva già letto la mia parte, diciamo che potevo un po' essere più, più più rapido nello spiegare la schisse, però ve lo spiego così vi faccio vedere, quindi vista tutta la dinamica che vi ho spiegato dedicata alle correlazioni, cioè abbiamo visto la strina dollaro, abbiamo visto il dollaro yen, quindi la cosa bella del forex, ve lo ripeto ragazzi, è che ci sono tutte queste correlazioni, il mercato è comunque sempre molto, come dire, sensibile ai movimenti di un altro, l'euro dollaro comunque è sensibile ai movimenti della strina dollaro, cioè il dollaro comunque sulle altre valute è pesato in un certo modo, quindi abbiamo già una correlazione se non matematica, comunque una correlazione, e poi c'è una correlazione proprio matematica come quella in questo caso che vi ho mostrato, euro, scusate, sterlina dollaro e dollaro yen, sterlina yen, quindi partendo da questo presupposto io sono andato a vedere la sterlina yen e con sterlina yen avevo notato appunto una serie di situazioni molto interessanti, quindi intanto sono andato a vedere, ed è quello che vi consiglio, i grafici con time frame ampio, ma ampio, ampio, cioè settimanale, mensile, no? Cerchiamo di vedere dove siamo, che cosa sta succedendo negli ultimi tempi, sta salendo il prezzo, quindi il mercato è in acquisto di sterlina yen, è più favorevole a comprare questo cambio sterlina yen. Sul settimanale come vi dicevo vedere prima c'è stato un arrivo su un'area importante che io ho definito 155,70 proprio perché questa zona, eccolo qui, era una zona di chiusura settimanale che da lì aveva portato poi i prezzi a ribassare, quindi il mercato a essere venduto, quindi sterlina yen aveva avuto un ribasso, quindi vendite di sterlina yen e quindi lì il mercato si può ricordare ecco che è un livello chiave segnato. Però in questo livello chiave è vero che il mercato si può fermare, cosa che in effetti ha fatto, ma come si è fermato? Si è fermato in maniera pesante dove ha mostrato subito una forza ribassista intensa o si è fermato con calma, ha fatto un lieve ribasso, un lieve test magari di nuovi minimi? Sì, ha fatto solo quello, cioè non c'è stato un grandissimo ribasso. In realtà se voi andate a vedere qualche settimana prima, quindi questa parte qui il cambio aveva avuto dei ribassi molto più potenti, soprattutto questa settimana è stato un grande ribasso, però vedete aveva tenuto, quando c'è il flusso long, in questo caso flusso di tendenza long molto forte, è più facile che il mercato in questione tenga e abbia più voglia di ripartire piuttosto che di fare un'inversione. E quindi in questo caso sì, siamo arrivati sul livello importante, l'abbiamo visto, livello storicamente importante, ma su questo livello il mercato, l'Asterlina IE, non ha dato segni di forte cedimento o di, come dire, di false rotture rialziste, quindi movimenti fiammate al rialzo, riprese al ribasso in maniera molto repentina, che sono spesso indice, quindi le tail bar, di cui abbiamo parlato anche tante volte qui su questi webinar, le tail bar, le barre con la lunga coda, no? Cioè non ha fatto, non è andato qui, papapapapa, e poi è risceso, e quindi questa cosa qui diciamo che può preannunciare magari non un'inversione di lungo termine, però magari un'inversione di breve, che magari noi trader possiamo sfruttare l'ottica operativa. No, è andato lì, ha fatto un inside narrow range che può portare in effetti a un ritracciamento, ma quanto un ritracciamento? Al momento, guardate, l'ultima barra è stata una mini barra di tenuta, ha fatto questo, e addirittura questa settimana, oggi siamo per carità martedì sera ormai, quindi non è che, però, vedete come il mercato ha tenuto bene. E io che cosa faccio? Allora, come vedete poi, ovviamente, l'ultima parte, la vado a vedere su grafico giornaliero, è noto come il grafico giornaliero ha mostrato un last kiss, eccolo qui, quindi eccolo qua, questo, questo qui che vedete qui, questa barra verde che trovate qui, è un last kiss, un ultimo bacio, ne ho parlato appunto in questo libro, ecco perché vi ho chiesto se avevate letto il libro, che è quel tipo di barra che ha solitamente alcune tipologie di forme, adesso Mari ve lo faccio vedere, non ha una forma vera e propria, cioè non c'è, come dire, non so, una pin bar o un inside bar che ha delle caratteristiche e sono quelle. Diciamo che siamo un po' più aperti, un po' meno schematici nel nostro osservare last kiss. La cosa importante solitamente è che comunque che cosa faccia? Abbia un movimento, in questo caso a ribasso, quindi eccolo qui, un ritorno verso il basso, un recupero e soprattutto che questo lo abbia su un'area importante magari precedente, in questo caso guardate, avevamo avuto un ribasso, un ritracciamento dei prezzi e quello che io chiamo pavimento, cioè il mercato ha iniziato a sedersi, vedete è come se si siede qua, il mercato non fa nuovi ribassi, si siede, si tende a fermarsi lì a fare come un pavimento e allora quando fa così se poi si vengono a creare delle giornate in questo caso perché poi io dopo vado a cercare il mio trigger, quindi in questo caso il last kiss sul giornaliero, quindi sui grafici che indicano ogni candela una giornata, non vado più in basso e in questo caso molto interessante perché si è venuto a creare proprio il last kiss, movimento verso il basso, recupero verso alto, eccolo qui, zoom, no? Pam pam, recupero verso l'alto e tra l'altro in questo caso che cosa ci crea? Ci crea un falso minimo in un pavimento, che cosa accade a livello di mercato in queste situazioni? Cioè con questa giornata qui il mercato praticamente, soprattutto chi lavora in intraday, quindi durante la giornata, aveva visto un movimento molto ribassista, questa barra qui se voi ci pensate durante la giornata per un momento, per qualche tempo durante la giornata è stata una giornata rossa completamente che portava giù i prezzi e che quindi magari anche chi lavora nell'intraday magari cercava di prendere un movimento short, magari l'ha anche preso, ma la cosa importante per me è la close di giornata, l'end of day, la fine della giornata, quindi lui ha fatto questo, ha fatto quindi finta di andare verso il basso e ha recuperato fortissimo con una chiusura bella verde, quindi più alta dell'apertura, chiamiamola così, anche se sapete che il forex, diciamo che l'apertura e la chiusura è fatta più che altro tra le sessioni, no? Asiatica che chiude, diciamo, la candela, quindi chiude è il flusso, diciamo, di scambi e in questo caso quindi che cosa avviene? Avviene che qui abbiamo, avevamo questa resistenza e qui abbiamo questa zona di pavimento dove si viene a creare proprio il last kiss che è assolutamente molto interessante. Voi pensate che io abbia comprato qui? No, ho aspettato sinceramente, ho aspettato e sono entrato oggi, quindi addirittura ho aspettato anche qualche giorno perché ieri poi c'è stato ancora una situazione chiaramente bullish, quindi il mercato, vedete, ha mostrato nuovamente un ribasso, nuovamente una ricerca dei minimi che non è stata trovata con una bullish bar nuovamente che aumenta la volatilità e che quindi, tra l'altro rompendo il last kiss, quindi questo qui poi, vedete, questo minimo della last kiss diventa quello che io chiamo swing, ok? Questo diventa uno swing low, swing di minimo, che va poi a creare appunto la conferma con il rialzo verso questa zona. Questa cosa qui è assolutamente per me una conferma della conferma della conferma della conferma che questo mercato in effetti ha forza, è un mercato che al momento diciamo che la cosa interessante è che rimanga sopra ancora queste zone, cioè sopra la zona 154,20, 154,30, almeno inizialmente, cioè questa zona qui, 154,50. Però nel momento in cui poi vado a operare con i certificati Turbo 24, la cosa interessante è quella che io, poi ormai è diventata la mia, vedete, la mia operatività di fondo, è quella di andare poi a trovare che tipo di operazione fare, cioè, bene, ho fatto tutto questo esame, ho fatto tutta questa analisi, ho capito che la Stalina Ieno è un mercato forte e che probabilmente se lo compro ho più possibilità di trovare un profitto nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, non siate troppo frettolosi nel trading, a volte stare dentro qualche giorno in più, addirittura una settimana in più può dare anche delle soddisfazioni maggiori, se siamo alla parte giusta, quindi ho capito che questo mercato è un mercato da comprare. Benissimo, che tipo di operazione posso andare a effettuare con l'ausilio appunto dei certificati Turbo? Adesso lo vediamo. Voglio però prima rispondere alla domanda di Claudio Ceccarelli che dice, l'ultima candela rossa può essere un last kiss anche se non ha recuperato tutto? L'ultima candela rossa può essere un last kiss anche se non ha recuperato tutto? Questa qui dici? Scusami Claudio se ti chiedo, ma questa qui? Questa che si sta formando? Vediamo se mi rispondi così. Questa ultima tu parli di questa che si sta ancora in formazione? Ah ok, allora no, non può essere un last kiss questa, non può essere. Uno, perché si deve ancora chiudere? Quindi mi raccomando ragioniamo insomma quando il mercato è chiuso, cioè nel senso quando chiude la propria candela, quindi o la sera verso tardi quando ormai sta per chiudere almeno, insomma quando siamo ormai, sappiamo che ormai è lì, o la mattina successiva, tanto durante la sessione asiatica, a meno che non andiamo in questo caso per esempio a Yen, quindi ci può stare anche dei movimenti più repentini, se non siamo sul mercato asiatico meglio aspettare la mattina, se è un mercato asiatico magari la sera si può guardare verso sera che tipo di dinamica. Però prima di tutto questo, secondo non può essere un last kiss, perché? Perché il last kiss deve essere formato da uno swing, deve essere uno swing, quindi questo qui non può essere uno swing, perché guardate, allora tu non hai fatto probabilmente il corso che ho fatto i webinar qui sugli swing, ma lo trovi tra l'altro se ti piace il tipo di approccio sul mio canale anche, probabilmente anche sul canale di G ho fatto qualcosa, però noi cerchiamo di, cioè il last kiss deve sempre formare uno swing, quindi nel momento in cui ho, guarda ti faccio vedere una situazione del genere, dopo te la faccio vedere anche sul grafico, ok? Gli swing sono, per esempio in questo caso, questo è uno swing high, questo è uno swing low, questo è uno swing high, questo è uno swing low, questo è uno swing high, cioè quasi quali sono gli swing? Lo swing deve sempre formare un nuovo minimo e deve essere rotto al rialzo, oppure deve formare un nuovo massimo, eccolo qui, e deve essere rotto al ribasso. Quindi in questo caso qui, se tu vai a prenderlo proprio, forma un nuovo minimo qui? Questo qui è un minimo più basso di questo? No! Questo qui è un minimo più basso di questo? No! Questo qui del last kiss è un minimo più basso del precedente? Sì! Ecco che può diventare un last kiss. Quando è che lo diventa? Quando viene rotto al rialzo? Ok? Quindi deve fare un minimo più basso e poi deve essere rotto il massimo al rialzo. Ok? Così forma uno swing e quindi in questo caso anche un last kiss. Va bene? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi il last kiss deve formare uno swing. Quindi se vado a prendere qua, questo qui per esempio è un last kiss. Questo qui era un last kiss ribassista, anche se magari non l'avrei tradato perché eravamo in una tendenza long. Questo però invece è un last kiss, è un swing low, quindi un swing di ribasso che recupera, quindi è un last kiss rialzista. Alla rottura del massimo si crea il last kiss. Ok? Questo è uno swing high, questo è uno swing low. Swing high, swing low. E via dicendo. Swing high, swing low, swing high, swing low. E via dicendo. Va bene? Questa è la questione degli swing. Quindi ricordiamoci sempre il last kiss deve formare uno swing. Stop. Questo è sicuramente importante. E quindi come ho fatto poi? Che cosa ho calcolato? Ho guardato un po' la situazione. Allora in un'ottica di trading più classico, quindi diciamo quello che potete leggere abbastanza o studiare su moltissimi libri di trading. Io entro qui, quindi sono entrato qui, facciamo un esempio, è stato un po' meglio di così, sono un po' più basso da qua. Ok? Io entro qui, posiziono lo stop magari sotto il minimo della giornata, magari precedente, o sotto il minimo questo qui, no? Linea di massima, questo è la classica modalità di posizionamento dello stop. Quindi definisco un rischio e metto lo stop qui. Io però grazie anche all'avvento appunto di questi certificati turbo che mi hanno fatto cambiare anche in meglio la mia gestione del rischio, la mia posizionamento dei miei massimi investimenti, del mio stop diciamo, quindi stop alle perdite, quindi dove definisco che al massimo lì non vado a perdere più di là, ecco, praticamente cosa succede? Che io vado a prendere la, questa qui la cartellina degli short e dei long, quindi dei livelli short e long, ovviamente se voglio andare long andrò a cliccare di qua e mi trovo con dei livelli. Già qui notate come, e questo è stato anche il mio ragionamento che feci poi quando ho completamente cambiato appunto, anch'io all'inizio li mettevo in maniera più classica gli stop, invece adesso grazie appunto a questi certificati ho iniziato a vedere per esempio, guardate, il livello K.O. più alto è 153,44, leva 94, va bene, e poi c'è il prezzo del certificato. Quindi io se clicco qua vado praticamente ad avere un massimo investimento che arriva qui, quindi io decido per esempio, non so, di rischiare 100 qui e quindi se dovesse scendere oltre qui, io qui la mia posizione da 100 varrà 50, 30, 0, non vale più niente, cioè ho perso quello che avevo investito, come in qualsiasi investimento che uno fa, cioè investo 100, se l'investimento mi va contro è ovvio che un po' alla volta va a 0 fino a quando si chiude diciamo. In questo caso quindi vedendo una cosa del genere che cosa ho notato? Ho notato che in realtà mettermi così vicino, provate a pensare, se io mi metto con, ho fatto tutto questo bello studio, mi sono andato a diciamo esaminare addirittura i cambi nativi, ho capito che questo cambio è forte, che questo cambio nelle prossime settimane probabilmente andrà ad avere anche un ulteriore rialzo. Ma domanda, vi faccio una domanda, se il prezzo invece di salire, perché poi noi trader non è che siamo trader, cioè dobbiamo prevedere per forza perfettamente quello che dice il mercato, voi vi dico io faccio trading veramente da tantissimi anni, sono un trader professionista, lo faccio veramente, questi mercati qua li trado veramente da sempre e trado sempre quelli, quindi li conosco bene e vi posso assicurare che seppur ho tutta questa esperienza, tante volte chiudo posizioni in perdita, cioè non è che o non entro perfettamente sempre, a volte devo stare magari qualche giornata a valutare perché magari il mercato non mi va subito dalla mia, magari va un po' contro, è normale, quindi noi trader non dobbiamo pensare di essere quelli che prevedono il futuro, ma quelli di trovare una buona entrata nel momento in cui abbiamo fatto una buona analisi e poi gestire la posizione, gestire quello che sta avvenendo. Ma io per esempio se mi metto long qui come mi sono messo e posiziono knock out lì, quindi vado a inserire uno stop diciamo in macchina 153, 44, 45, quello che è, se la posizione, quindi se mi va in negativo, quindi se il mercato invece di salire inizia a scendere e va qui, secondo voi, voglio capire anche da voi cosa pensate di questo, cioè la situazione a livello di tendenza di medio periodo cambia? Cioè vi faccio vedere il settimanale così capite meglio, se io vado qua e il mercato inizia a scendere e va qui, la mia visione, il mio, come dire, l'andamento di questo mercato cambia? Ho veramente sbagliato la mia visione e quindi da tanto da posizionare un massimo stop lì, un massimo rischio lì? Ho fatto quindi un'analisi scorretta diciamo, secondo voi? Vediamo se mi rispondete, se avete un po' di così. Buttate lì, tanto non è che non ci sia un giusto sbagliato, io vi dico la mia domanda per quanto è, per quello che penso io, però non so se avete capito la domanda, ma se io metto posizione il primo K.O. che trovo, dopo tutta l'analisi che vi ho fatto vedere in questa mezz'oretta insieme e il prezzo invece di salire subito fa magari uno strappo verso il basso. Ho sbagliato la mia posizione tanto da uscire e quindi da incassare una perdita, secondo voi, totale del mio investimento? Vi rispondo io. Per quanto mi riguarda no, ok? Per quanto mi riguarda non ne vale la pena di chiudere una posizione totalmente in perdita. Magari può valere di chiudere una posizione, una perdita minore, ma totalmente in parita lì? No, perché lì non va a cambiare la mia idea. Cioè, se io mi trovo in questa situazione dove l'Asterlina Yen magari invece di salire subito inizia a scendere e mi fa questo, qua mi fa un last kiss long dove io posso addirittura ancora comprare e mi crea praticamente un ritracciamento un po' più profondo di quello che ha fatto fino adesso, ma in realtà non mi cambia la visione che ho sulla Asterlina Yen. Cioè, la Asterlina Yen rimarrebbe per me sempre un mercato da comprare, no? Vero? Benissimo. Quindi praticamente io in questo caso non vado a ragionare, vado a prendere subito il primo punto in cui mi devo stoppare, ma vado invece a prendere un punto dove la mia view, almeno nel breve, inizierebbe a cambiare, ok? Dove la situazione inizierebbe a essere molto più indebolita e ci vado molto lontano. Quindi posiziono il mio massimo stopp, massimo stop, in dei punti molto poco raggiungibili dal mercato nel breve termine, ok? Quindi in questo caso specifico io ho definito, sono entrato oggi, un'entrata proprio qui, cioè proprio qui. Ho definito il mio massimo investimento con un account, leva 18, 146.02. Quindi mi sono andato a cliccare qui, sono entrato direttamente a mercato, ovviamente gli ho dato, gli ho dato, gli ho, gli ho, mi sono preso una quantità di turbo che potevo rischiare in base a quello che è il mio conto e quello che è un po' la mia esperienza e in questo caso ho messo 150. Perché ho messo 150? Perché io solitamente che cosa faccio? Vado a prendere il valore del conto che ho di trading. In questo caso 2934, facciamo 21.000, ok? 21.000. Questo è il valore del conto in questo momento. Benissimo. Di questi quindi io vado al massimo a comprare al massimo quanti? 210 certificati, ok? Quindi praticamente è come se lavorassi circa in leva 1. Quindi ho 21.000, lavoro con 2.10 euro a contratto che se andiamo a prendere i CFD, sappiamo che in linea generale è come se avessi un controvalore di circa il mio valore del conto. Quindi è vero che questi ovviamente sono prodotti a leva, io qua sto utilizzando una leva 18 perché in realtà non metto tutti i 21.000 euro, 20.000 euro nella posizione. In realtà ne ho messi meno, infatti adesso vedete. Adesso vi spiego. Ma invece di metterne appunto, quindi tengo al massimo questo 1 a 1 di leva e vado in realtà poi un po' a valutare anche il tipo di mercato di volatilità, questo mercato più volatile. E quindi mi sono tenuto una leva, vedete, più bassa, quindi invece di entrare con 210 contratti, sono entrato con, pur avendo 21 sul conto, di come se fosse entrato circa con 15. 1 euro e 50 a movimento di pip, a pip, ok? 1 euro e 50. Quindi mi sono tenuto praticamente sotto leva rispetto al mio conto. Avete capito? Quindi come gestione del rischio, come massimo investimento mi sono messo così. E mi sono tenuto comunque uno spazio molto ampio. Questo spazio qui non l'ho tenuto perché la mia posizione andrà qui. Cioè io non andrò a chiudere la posizione in perdita qui, ma la andrò a fare gestendo un po' la situazione. Avendo un knockout molto, guardate, guardatelo sul daily, molto lontano dei prezzi attuali, mi permette di andare a valutare nel caso in cui il mercato va qui dove vi ho detto prima e qui magari inizia a fare così e poi inizia a fare un certo dinamica short, a quel punto magari io qui o qui esco. O addirittura magari esco su un rialzo, un ritorno di long, un ritorno magari al prezzo di carico, magari posso anche definire un'uscita. Comunque definisco un'uscita poi dal mercato non attraverso uno stop classico ma attraverso un aggiornamento di quella che è la situazione di quel mercato. Cioè ho investito X, ho messo un massimo investimento molto lontano con la gestione della leva come ve l'ho mostrata, quindi al massimo del valore del conto diciamo, e vado praticamente poi a valutare nel caso in cui il mercato non faccia quello che io avevo analizzato e quindi quella che era la mia idea su quel mercato, non attraverso uno stop magari sotto dei minimi che magari viene preso magari una settimana ci va giù eccetera, ma in ottica un po' più razionale, un po' più ragionata, capendo che magari questa tendenza magari adesso non ha più quella forza lì è un po' finito il movimento long e allora a quel punto accetterò di incassare la perdita che non sarà totale, no? Non saranno mille e cento euro, mille euro quello che è, ma saranno magari duecento euro, trecento euro, centocinquanta euro, cinquecento euro, cioè sarà sicuramente molto più bassa rispetto a questa che comunque è un paracadute che io ho, quindi al massimo comunque se succede un disastro comunque quello diventa il massimo rischio, ma deve essere più che lì mi chiudo come idea, è lì è il mio massimo punto così io posso con calma ragionare quindi non andare a essere un trader che ragiona di istinto e di emotività e vi assicuro che queste due cose sono distinto nel senso più che distinto di emotività, quindi dove veniamo presi più che altro da emozioni che spesso non ci stanno dicendo delle cose diciamo funzionali a fare dei profitti o a gestire la posizione al meglio, ma presi magari dallo stress di una posizione che magari va rapidamente in negativo o qualsiasi cosa può succedere, sapete che noi trader siamo coloro che prendono costantemente decisioni, allora bisogna prendere le decisioni però in modo razionale, ecco che in questo modo invece la posizione, abbiamo un K.O. ampio, la posizione non va dalla nostra, ma valutiamo, possiamo aspettare anche un giorno in più, il bello tra l'altro del mercato delle valute, del forex che a me piace molto che trado nel 90% del mio tempo, se non di più, è proprio il fatto che ha una volatilità che permette questo tipo di dinamiche, cioè voglio dire non è che stiamo tradando il titolo Tesla dove, o il Bitcoin, dove purtroppo la volatilità, purtroppo per fortuna poi è, però per quanto mi riguarda purtroppo la volatilità è talmente così repentina che non si ha neanche il tempo di capire che cosa stava facendo e magari si fanno, si prendono decisioni anche un po' affrettate, in questo caso insomma stiamo sul forex, è vero che Stradina Yen è molto volatile, però stiamo parlando di una volatilità molto gestibile e quindi ci permette anche di avere gli spunti per magari poi chiudere, quindi non sto dicendo che io poi qui andrò qui, perché per esempio se il mercato invece dovesse iniziare a sparare su, poi magari cercherò di gestire il mio profitto, qui per esempio ho segnato due livelli importanti di presa profitto che sono l'area 159 e l'area 161, beh qui avrebbe un grandissimo trade, un bellissimo trade e più un'altra cosa, nel caso in cui magari Stradina Yen scenda adesso e vada qui e qui ci fa un ulteriore last kiss, allora a quel punto io addirittura nel mio progetto di trading in questo caso ho addirittura definito anche la possibilità di entrare ulteriormente con un'altra posizione, quindi mediare il mio trade con un prezzo di carico migliore, quindi nel caso in cui ho comprato circa qui e magari perché mi dà un certo tipo di struttura di prezzo da ricomprare, magari compro anche qui, è ovvio che il mio prezzo di carico magari se compro gli stessi contratti sarà circa qui, però sarà lì allora che se si viene a definire non so un last kiss qui, facciamo un esempio, è ovvio che però poi se il prezzo dovesse poi scendere ulteriormente qui andrò a chiudere totalmente la posizione perché non avrebbe più senso stare dentro, avete capito? Quindi poi nella dinamica della evoluzione dei prezzi poi io andrò a gestire un po' la cosa, però non è detto che anche se fosse un ribasso nella mia pianificazione del trade in questo caso potrei anche pensare di creare un prezzo medio di carico migliore e non per forza peggiore con un incremento, quindi al rialzo, quindi nel momento in cui sale il classico piramidale ma anche una mediata, ma se è ben pianificata sappiate che la mediata è ottimale perché crea un prezzo di carico migliore con dei contratti migliori, quindi con più contratti, con più certificati in questo caso e quindi avere la possibilità di guadagnare di più. È ovvio che in questo caso ci vuole anche esperienza perché non è così, non si dovrebbe fare nella base teorica, ma poi nel trading se si è pianificato bene e c'è la possibilità e l'opportunità è una cosa fattibile, ecco che allora si può lavorare in maniera molto molto interessante con i certificati turbo, però sempre tenendo presente che il knockout è meglio tenerlo a un livello lontano, almeno per come ragiono io, quindi livello lontano che ci permette poi di ragionare in base a quello che ci dice il prezzo in maniera più razionale. Avete capito? Bene, questo è un po' il mio trade che volevo spiegarvi in questa sessione di webinar che credo vi sia piaciuto, è sicuramente interessante spiegarvi anche come faccio le operazioni, soprattutto con questi certificati turbo perché sono assolutamente un ottimo strumento, avete visto anche il fatto di mettersi lì, io non ho un margine come ho con i CFD, se io per esempio in questo caso ho i CFD che per esempio in questo caso specifico avrei non so 300, circa 500 euro di margine con una posizione del genere più lo stop loss, in questo caso invece io definisco direttamente che questo è il mio massimo investimento, quindi non c'è più il margine da mettere a lato del mio conto, quindi il valore del conto X, margine Y, Y e stop loss Z, diciamo, quindi tre valori, ma ce ne sono solo due, c'è il mio investimento totale che vale margine più stock, diciamo, cioè è quello lì, non c'è un qualcosa in più che devo mettere lì a lato del conto, avete capito? Quindi insomma questo è un po' il trade che ho fatto e come lo gestirò è quello che magari potrebbe essere un po' la pianificazione futura di questo bel deal. Domande quindi, avete qualche, sono già le 18.50 tra l'altro, che avete qualcosa da chiedere, qualche spunto, qualche idea, non avete capito qualcosa, sono andato via troppo rapidamente, non lo so, non avete fatto moltissime domande quest'oggi, quindi io vi chiedo se avete qualche spunto che magari volete darmi e io volentieri sono qui, non mi sembra, va bene, allora oggi sono stato bravissimo perché vedo che non ci sono praticamente domande, allora che dire, io spero intanto che vi sia piaciuto questo webinar, sapete che io sono abbastanza pratico, quindi vado proprio sul pratico, sulle operazioni che ho mercato. Sono un trader come voi ragazzi, quindi non amo molto le slide, queste cose, però spero di essermi fatto capire, di essere andato direttamente sul punto, quindi di avervi spiegato bene un po' come io opero almeno con questi certificati turbo, attraverso un'operazione reale, quindi non teoria ma una cosa che ho veramente con i miei soldi, magari ne faremo delle altre, perché noto che i certificati piacciono a molti, a me in primis, magari ne faremo delle altre, va bene, allora a questo punto io direi che per oggi è tutto, ritroverete questo webinar direttamente sul mio canale youtube giovedì durante la giornata, credo intorno verso sera che lo inseriremo, però insomma durante la giornata lo troverete, io vi saluto, vi auguro una buonissima serata e un buon trading simple, ciao a tutti!